we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi per chi non lo sapesse qualche ora fa è arrivata la patch 12.40 su fortnite una patch che tutti aspettavamo una delle tre patch che ci accompagneranno per questo mese e mezzo in cui la season è stata allungata vi ricordo posticipata fino al 4 giugno volevo con voi vedere tutte le cose che sono state inserite voglio prima però ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro aiuto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video news e quindi andiamo a vedere allora ragazzi tutto quello che è presente in questo nuovo aggiornamento partendo ovviamente dalle skin ce ne sono ben sei più una segreta e dopo ve la farò vedere le andiamo a vedere un attimino in alta definizione il primo si chiama goof come vedete va a riprendere in poche parole holly che sarebbe il famiglio chiamiamolo così di sky passiamo poi direttamente a siren spero che il background sia proprio la rarità delle skin quindi siren potrebbe essere una skin rara psylocke molto molto carina sembrerebbe che sia invece epica wolf un tizio abbastanza strano che secondo me c'entrerà qualcosa con l'agenzia perché come vedete ha sotto il vestito quello bello della festa lo vedo molto sul chi va là cable che invece mi dicevano se non sbaglio possa far parte di qualcosa già di deadpool dovrebbe essere della serie animata o o del film io sinceramente non l'ho mai visto però alcuni mi dicevano in chat che è così e terminiamo invece con domino molto carina anche questa skin e rarità epica insomma ragazzi dei nuovi outfit che non ci fanno mai schifo a no mancava anche il poveraccio scappato di casa e tirato su dal ponte il signor sint l'unico con uno stile selezionabile quindi lo abbiamo così e se non ricordo male lo abbiamo anche con gli occhiali da sole ovviamente tutte sono corredate con i propri picconi ve li faccio vedere con un'unica carrellata in modo da non strapparvi le balls ce ne sono veramente tanti ma ce ne sono anche alcuni molto particolari insomma oltre ai picconi anche i propri backpack ovviamente in a tema molto carini niente niente di che devo dire che ci stanno non tutti ma alcuni ci stanno andiamo avanti ovviamente non potevano mancare le scie e ne abbiamo una sola per adesso si chiama current synthetic molto carina se devo essere sincero ci sono appunto degli effetti molto retro molto synth tra virgolette numeri che escono dalla scia e colori molto vivaci anche questa assolutamente carina non poteva mancare una base musicale che si prima remixata dovrebbe essere il balletto quello che gira su se stesso su un piede solo a vedere dall'immagine e tre coperture per le armi il the shores blues quindi animata ovviamente come potete vedere dovrebbe avere appunto lo stile azzurro che si muove sotto nel background qua ovviamente l'ho ripetuta perché sono un pirla e la seconda invece è banier quindi rossa bianca con sopra i loghi della ma se volete vedere l'altra che è sempre di colore blu la trovate comunque sulla mia pagina instagram basta cercare exuder e vedete tutti i leaks ma questo è uno dei pezzi forti invece della patch 12.40 mi riferisco allo stile x force di deadpool che avevamo già visto qualche video fa ma che poteva essere che pensavamo fosse solamente un concept invece l'hanno inserito davvero quindi questa settimana la numero 9 avrà un'altra coppia di sfide per sbloccare appunto uno stile extra per deadpool molto carino devo dire bianco nero ci sta sempre bene ci sta e quindi grazie ovviamente epic games per averci regalato un'altra cosa ed eccole qua proprio le sfide di deadpool dobbiamo trovare shorts dovrebbe essere i pantaloncini di deadpool e dobbiamo saluto dovrebbe proprio salutarli i deadpool pants non vi preoccupate ovviamente che caricherò sul canale con un bel po di anticipo le soluzioni per i video quindi non abbiate paura troverete sicuramente come fare e come ottenere questo stile molto molto carino questa è un'altra novità davvero interessante perché sono state liccate le doppie pistole silenziate molti dicono che potrebbero essere appunto dedicate o come vanno insieme con la versione di deadpool sinceramente non sappiamo dove verranno messe a questo momento un'idea sicuramente carina dopo aver le doppie pistole normali anche le doppie pistole silenziate diciamo non sapevano che caspita fare però un'arma in più anche questa è sempre ben accetta passiamo anche alla card di deadpool sì perché se adesso andate allo yacht e battete deadpool oltre ad ottenere le doppie pistole sembra che otterrete anche la card come rilasciano ogni agente però al suo a suo tema quindi come vedete il logo è sopra stampato dovrebbe servirvi ovviamente per aprire il cavo liccate anche tre nuove sfide segrete e per sfide segrete mi riferisco alle sfide quelle che abbiamo già visto ad esempio quelle degli orsi quelle del miele dove dovevamo distruggere gli ignomi ecco ce ne sono tre la prima si chiama stop the battle e leggiamo sotto una descrizione che dice disarmed teddies and gnomes disarma gli orsi e gli ignomi anche qua non preoccupatevi vi farò ovviamente dei video dedicati teddies liberated libera i teddy libera gli orsi potrebbe essere celebrate the truth dobbiamo ballare non chiedetemi che cosa cavolo possa essere mi viene in mente il celebrate the tomatoes vi ricordate la lode al pomodoro quelle motte un po strana potrebbe essere anche questa una roba dove si dovrà ballare in diversi punti passiamo invece a un'altra cosa molto interessante ovviamente mi riferisco alle sfide di mida perché siamo arrivati all'ultimo blocco di sfide quelle di mida della settimana numero 9 come vedete 10 sfide da 40.000 punti esperienza all'uno ce ne sono tantissime ne leggiamo un paio fai danno ai giocatori con il cecchino colleziona le monete punti esperienza oppure earn survival combat scavenger gold medals quindi dovremo ottenere delle medaglie semplicemente giocando come al solito anche qua non vi preoccupate abbiamo anche le sfide le sfide della settimana numero 10 sempre altri 400 mila punti per un totale ovviamente di 800 mila punti esperienza praticamente regalati nell'arco di queste due settimane e andiamo avanti ragazzi perché c'è un altro blocco di sfide molto curioso che arriveranno pubblicamente in questa settimana ve ne avevo già parlato le sfide per ottenere la card della licenza di spia dell'agente banana non sappiamo bene a che cosa serva questa card sappiamo che però è un proprio un oggetto che ci verrà regalato e che andrà nel nostro armadietto potrebbe anche trattarsi per quanto ne so semplicemente di un adesivo dobbiamo fare dobbiamo chiudere le valvole di sfogo nella camera di brutus e non vi preoccupate sono semplicemente le manopole rosse che trovate sui tubi anche lei vi sistemo io con i video dobbiamo buttare giù il gatto di il gatto giocattolo nella stanza del miascolo che è in alto a sinistra e dobbiamo crank midas distruggere il fonografo di mida ovviamente lo troveremo nella sua stanza non appena sarà disponibile parlando di mida e parlando dell'agenzia ci sono anche due immagini molto interessanti perché sembrerebbe che l'agenzia sia entrata nello stage 2 e per stage 2 intendo che dovrebbe essere danneggiata ovviamente non so ancora in game perché questo video è registrato prima che i server tornino online e abbiamo due immagini che ci mostrano insomma che qualcosa sta succedendo sono ovviamente i render dentro i file di gioco quindi non abbiamo le immagini ad alta definizione ma sembra proprio che lì davanti la statua si stia già distruggendo e qualche altro pezzo dell'agenzia stia un pochettino cedendo cercheremo di capire il perché e che cosa sta succedendo e sicuramente ne parleremo nei video news andando avanti ovviamente non potevano mancare due balletti trovati il primo si chiama dynamic shuffle non è ovviamente da attraversamento è semplicemente un ballo fermo sul posto il secondo è crazy boy quindi anche qua molto divertente molto carino il fatto di avere due nuove emot e per concludere ragazzi come vedete invece abbiamo l'ultima immagine che ci mostra tutte le nuove cose inserite si chiamano spy tech penso che siano delle robe relative alla modalità knockout non ne sono sicuro magari qualcuno di voi saprà qualcosa di più ma io credo invece di averci preso perché i loghi mi ricordano molto quelli che si sbloccano giocando questa modalità le armi che sono state inserite sono quelle anche che si sbloccano e come vedete abbiamo il bounce pad abbiamo le le granate quelle non esplosive quelle che ti fanno saltare in alto le granate ad impulso e addirittura un ombrello nero quindi staremo a vedere se invece l'ombrello che è la cosa più interessante possa essere ottenuto giocando e magari raggiungendo un certo livello oppure semplicemente sia l'ombrello del kingsman che è stato inserito in questa modalità insomma ragazzi per questa pace 12.40 è tutto io vi ringrazio per avere guardato questo video mi rivolgo a voi che state guardando adesso la live su twitch non scappate se mando l'altro perché sto solamente chiudendo il video non dimenticatevi di iscrivervi al canale noi io sono proprio adesso in live su twitch ciao